La sconfitta di ieri contro la Virtus Roma, partita terminata 86-78, è quella goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cinque sconfitte di fila non possono passare in cavalleria. Assodato e accettato che durante il campionato arriva inesorabile un calo fisiologico, ora non può più essere la spiegazione di sconfitte simili, eccetto quella casalinga con Biella. Sconfitte maturate nei minuti finali, sconfitte con tanti, troppi punti incassati. Ora è chiaro che il problema in gran parte è mentale, è come se fosse subentrata una tristezza, uno sconforto che sia di arrendevolezza, che non riconosciamo ad una squadra che ci ha abituato a ben altro, indipendentemente dalla vittoria, ad un altro atteggiamento, a ben altra passione. Forse è proprio questo che disorienta e mercoledì il turno casalingo contro Napoli, ultima della classe, che ha vinto di uno con Siena, diventa di vitale importanza. Allora, noi abbiamo fatto una partita, secondo me, anche discredita dal punto di vista soprattutto emotiva, perché avevamo bisogno di reagire alla sconfitta di Siena, dove la squadra comunque ha cercato di lavorare, e di macinare anche il gioco. E credo che siamo stati sempre attaccati alla partita come volevamo. Il problema è che già nel primo tempo avevamo 49 punti, e 20 punti gliel'avamo concesso soprattutto nella loro transizione offensiva. Abbiamo commesso un paio di errori, soprattutto nel bilanciamento difensivo, e nel non fermare la palla, perché comunque Roma è una squadra che vuole il ritmo alto, vuole spingere sempre il contropiede, e cercare sempre il post basso di Roberts, che naturalmente l'abbiamo sofferto, perché è un giocatore che comunque non è che lo soffre per demerito nostro, è un giocatore che comunque è bravo, sa fare questo, è un giocatore che produce 20 punti. Abbiamo cercato un pochettino di limitarlo, non ci siamo riusciti, perché comunque la pressione sulla palla non era efficiente, soprattutto nella prima parte. Nella seconda parte siamo stati più aggressivi, soprattutto in difesa, ripartivamo in contropiede, muovevamo la palla, perché tramite i passaggi comunque Roma perdeva di aggressività, e quindi potevamo trovare spazi per attaccare l'aria, o prendere anche dei tiri costruiti. Siamo stati sempre lì attaccati, punto a punto, partita equilibrata, poi abbiamo commesso alcuni errori con i giocatori che di solito fanno, però in questo momento ci capita così, e poi dall'altra parte siamo stati un pochettino soft negli ultimi tre minuti dal punto di vista difensivo, e quel tiro all'ultimo secondo, il ribalzo offensivo, ci ha stroncato un pochettino la testa, le说 s'è un'errore che di solito fanno, ma sessioni cecolo che di solito fanno, è un'errore che di solito fanno, per garantire l'arrore che di solito fanno, ha un'errore che di solito fanno, non ci è un'errore che di solito fanno, in questo momento ci ha parato,